salve a tutti benvenuti in una puntata di questa questa serie forse l'ultima di questa serie su la carriera questa serie su undisputed sulla modalità dicevo carriera di undisputed dico forse l'ultima perché siamo arrivati a un punto al quale diciamo anche poco senso continuare c'è spiego meglio siamo siamo al punto che siamo talmente forti un personaggio talmente forte di tutti gli avversari che di fatto questa serie è diventata una sorta di mattanza nei confronti di tutti quelli che di tutti i sfidanti che ci capito in avanti ecco inoltre c'è il fra virgolette problema che c'è il problema che gli sfidanti stanno cominciando a diventare sempre gli stessi stanno cominciando a diventare sempre gli stessi gli sfidanti ah devo rinnovare aspetta fermi rinnova e inga gianna fino alla fine gianna si rinnova fino alla fine scusate ok ci siamo su tutto a posto ok e allora qua andiamo sul peso riduciamo peso riduciamo peso però facciamo un paio di paio di allenamenti così ok max va bene e adesso di nuovo dei limiti diciamo peso devo ridurre un po' il peso quello si devo ridurre un po' il peso perché perché si peso ideale passa il tempo perché passerà il tempo il nostro pugile quanti anni ha voglio vedere l'età voglio vedere l'età mia carriera ecco l'incontro ecco l'età guarda roba i dati i dati non riesco a vedere c'è proprio il tasso y per ritirarmi c'è proprio devo serio ora io non so se non so dirlo intanto continuiamo peso ideale peso ideale continuiamo con peso ideale perché devo anzi devo ecco scusate ok siamo arrivati al 7 2 del 45 quanti quanti anni di carriera siamo al 21 2 del 45 28 2 del 45 ok va bene ora ne continuiamo l'incontro fermi tutti che c'è un avversario nuovo aspetta c'è un avversario nuovo che ha anche un 78 d'overall difesa di ah soltanto quello di difesa del titolo stile interactive marcus young credo di averlo già affrontato e in ogni caso 54 d'overall insomma o se l'una guarda che l'una guarda che the barbarian addirittura the barbarian però scusa negoziazione perché cortesemente una roba ecco clausano un incontro costretto a fare due incontri consecutivi o se l'una o se l'una o se l'una prossimo sfidante finalmente uno sfidante diverso ecco ecco mi ci voleva questo io volevo questo volevo io io volevo questo chi vuoi usare questo allora mi è stato suggerito in una delle scorse puntate del buono scusate un attimo che me lo cerco me lo cerco ragazzo ragazzo che mi ha mi ha suggerito una roba fatemi porca miseria scusate un attimo ma voglio andare a cercare perché voglio voglio nominarlo ecco Leonardo Nardi Leonardo Nardi che mi ha suggerito di non mettere gli diciamo i media tutti alla fine ma distribuirli un po' e allora seguo il suo consiglio io direi uno lo metto qua così poi allenamento alleniamo un po' ci alleniamo un po' e cosa abbiamo forza guarda sono preparata ma la stamina ormai sono quasi al massimo direi va bene così saluta recupero salute velocità dei pugni salute di testa allora io darei solo a velocità dei pugni poi c'è la precisione c'era uno che dava la precisione questo vai di precisione quindi ok poi facciamo io farei sempre aspetta la parata saluta la parata ok poi un altro media farei l'annuncio televisivo ok continuiamo solo uno poi poi facciamo allora posso fare sono indeciso perché non ci ho pensato a lungo allora posso fare un recupero ok poi poi direi poi direi faccio un altro media ok poi allenamento facciamo minchia allora questo poi uno bello pesante questo questo qua questo e poi e poi e poi recupero poi recupero ok alla fine ci sono alla fine ci sono tutto sommato ci sono va bene va bene e ora combattiamo combattiamo questo nuovo avversario tra l'altro io una cosa vuol dire dalla scorsa puntata da adesso è passato un po' di tempo nel senso in termini temporali io sono stato un paio di settimane fuori a casa che l'ho registrato le puntate che avete visto diciamo le ho registrate tutte assieme prima di partire quindi diciamo da quando sto riprendendo in mano il pad per questo per questo gioco per l'Undisputed e credo due forse anche tre settimane dall'ultima puntata da registrare sono passate quindi potrei anche avere un po' di ruggine io a livello di a livello di gameplay diciamo in manualità di gameplay e già che non penso di essere un fenomeno di mio quindi immaginate con un po' di ruggine addosso e adesso abbiamo adesso abbiamo un avversario diverso abbiamo un avversario almeno non ricordo di averlo mai affrontato o perlomeno sono abbastanza sicuro di averlo mai avuto contro come sfidante al titolo ecco almeno uno sfidante diverso se cambiano se i sfidanti cambiano potrei anche andare avanti ecco alla fine ecco diciamo che questo è il motivo il motivo per cui ero tentato di chiudere non è tanto solo il fatto di essere di avere il personaggio tanto più forte rispetto agli altri ma è anche il fatto che gli sfidanti stavano che si stavano a giro stavano stavano arrivando sempre gli stessi sfidanti a giro e la cosa c'è presumo penso che possa diventare anche piuttosto noioso quindi piuttosto piuttosto fa qualcosa che può essere noioso meglio 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 smettere fare qualcosa altro intanto eccoci qua iniziamo il primo round iniziamo il primo round segno ancora o se l'una guarda che l'una guarda che male e guarda che guarda che combinazione che ti tiro ok ok allora bella con i montanti pure levati qua ok ok ancora ok 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 guarda il corpo io sto andando molto al corpo per farlo sfiancare per diciamo spezzare il fiato ok no no senza non devo fare va bene che bene che diciamo ultimamente i metri sono finiti abbastanza a prezzo proprio perché ero un personaggio che era nettamente superiore rispetto ai nostri avversari che il nostro l'immortaici diciamo il nostro il nostro l'immortaici diciamo ormai era come caratteristiche e un altro livello rispetto ai suoi avversari tanto che qua penso l'ottimo primo round siamo stati di nuovo mettere vabbè maggior numero di pugni messi a segno prendi non ti vei colpi con quei ganci direi tutto sommato ok tutto sommato va bene secondo round qui partirà l'attacco mi sa di sì infatti parte l'attacco così ora al corpo no ah no fai in ferra sono troppo sto sbracciando troppo sto sbracciando troppo calma e questo è andato a segno al corpo ah va a segno lui fatto quel cappello diciamo un po' un rosso ossigenato sto parlando quello che con la con la cresta verde ti perdi con la cresta tipo comunque ma ma benissimo bella combinazione ma però c'è una ferita al volto qui adesso c'è una ferita al volto lui c'è una ferita al volto attenzione ho le difficoltà c'è una difficoltà è difficoltà ora è giù giù l'una va giù l'una va giù orge l'una va giù atterramento al secondo round diciamo che probabilmente quella la ferita intanto l'una in modalità undertaker quella ferita sopra l'occhio quel taglio il fatto lì probabilmente è inciso molto su sullo stun diciamo ok comunque primo round diciamo che questo atterramento ci taggia un po' vantaggio per essere il secondo round il round finisce così ok va bene proprio fantastico avrà fatto male il figlio è troppo presto non voglio dice va bene non corriamo rischi ok stai mettendo non rallentare tu potrebbe risentirne ok va bene chi sta chi sta chi sta calma calma e lui sta cercando di rimontare uuuu fermi no ok ora destro sinistro bella combinazione spero che si riperta la ferita ora di nuovo attenzione difficoltà in crisi luna difficoltà luna attenzione però dobbiamo colpire esatto va giù e va giù orgheluna va giù orgheluna va giù orgheluna ma chi l'abbia ferita anche l'altro lato può essere secondo atterramento in questo match primo nel round diciamo che anche qua ci stiamo ipotizzando la vittoria ammesso che si rialzi si rialza si rialza si rialza orgheluna ma a questo punto sarà un altro 18 sarà un altro 18 adesso calma ehi ancora segno attenzione nuova difficoltà e va giù secondo atterramento secondo atterramento per l'una stavolta il corpo direi che anche questo match è abbastanza indirizzato due tre siamo al cinque otto nove giù K o fine e finisce e finisce questo match difendiamo il titolo fondamentalmente in tre round poveretto l'abbiamo smaciullato in faccia per il tuo gruppo c'è il sangue è ricoperto del suo stesso sangue praticamente 19 18 sarebbe stato posteriato sarebbe stato 17 il terzo round match a senso unico un avversario diverso va bene ok ora a noi ora io non so onestamente se questa questa diciamo questa carriera ha una sua fine o va avanti all'infinito e si vede il personaggio che ha a a 72 anni che è ancora così che continua a combattere boh non penso non lo so però intanto andiamo avanti così ora il fatto che la cintura ripete vabbè ok titolo campione cintura weight class di undisputed vabbè ok qua ci sono i punti di tutte le cose ok attenzione scadenza contatti il cutman alla fermi no che cosa rinnova sette sette incontri sette sette il cutman e poi anche te rinnoviamo questi ritengo questi ormai non li cambio più ormai non li non li cambio possiamo andare avanti io devi fare un altro match che questo probabilmente questa registrazione probabilmente di che a sette minuti un po' pochino forse un po' pochino c'è tanto parlato poco match direi direi che un altro match lo facciamo allora facciamo un paio di come combattivo uno due dopodichè facciamo di qua si va ripeto ideale ok incontro Jalen Davis Fernando Mende e Dante Scott allora allora sono fondamentalmente tutte delle vittime delle future delle vittime tutte e tre Jalen Davis perlomeno mi sembra nuovo e allora Jalen Davis con la cresta viola tu però hai copiato al nostro al nostro personaggio hai copiato la capigliatura amico mio vuoi essere vuoi essere una copa una copa scusate una copia una copia perfetta vuole essere il nuovo il nuovo mortaici ma di mortaici ce ne ce ne ce ne soltanto uno ora io negocierei caro amico mio nuovo incontro direi anche no sta bene va bene così e allora se cortesemente possiamo sembra ancora più lenta allora incontro no train week ok ok quindi direi calendare allenamento sempre questo qua allora io direi media media però aspetta posso ok allenamento adesso ci andrei bello pesante qualcosa qua dove sto basso salta guardia salta la parata si va bene dai va bene vai poi farei recupero poi in altro media poi farei farei vai poi farei farei altro allenamento questo farei offensivo dov'è quella alla guardia questo farei difensivo ok poi farei media e recupero ok adesso come peso siamo nei limiti non siamo più non siamo non siamo un peso ideale siamo nei limiti leggermente oltre il peso ideale va bene e va bene tanto sto avversario 54 l'overall questo penso sia fondamentalmente una vittima una futura vittima fondamentalmente quindi quindi direi che è a poco ecco ecco diciamo così finché spuntano avversari nuovi potrei anche ipotizzare di andare un altro poco avanti anche se ripeto ormai si tratta fondamentalmente di una di una mattanza letteralmente di una mattanza però finisce un avversario nuovi se poi ricomincia di nuovo a a girare sempre gli stessi capite voi cioè finisce ogni stimolo ogni cosa anche se comunque detto non penso durerà ancora a lungo perlomeno ecco però sincero vorrei riuscire a tirare perlomeno fino c'è fino alla seconda metà di settembre perlomeno sarebbe ideale poi ripeto deve essere ci presupposti se se non io devo capire attimo ok a post e suona guardi giusto eh caro amico mio però prima amico mio prima di pensare a copiare la capigliatura del nostro di mortaici che fa fanno conto che fa scuola ma imparare anche a difendere amico mio se stai fermo a prenderti i pugni calma eccolo di nuovo attenzione già in difficoltà Davis e va giù e va giù va tupilo giù Davis primo round caro Jalen caro Jalen non basta il capello per per diventare l'immortaici per diventare mortaici non basta il capello mi piace mi piace amico mio spiace l'immortaici è unico intanto è già ancora in crisi ma si riprende ma subito subito di nuovo buttato giù un secondo atterramento questo match rischia di essere ancora più breve del precedente attenzione 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 vari conteggio aperta l'arcata sopraccigliare destra sopraccigliare destra si rialza si rialza all'otto il conto di otto si rialza pronti ancora in crisi sembra essere ancora in crisi e lo è di nuovo e va giù ed è finita signori dovrebbe essere finita dovrebbe essere K o tecnico amico mio non ci pensare più amico mio non ci pensare più è finita così non basta il capello piace ma non basta il capello il nostro mortaici mantiene il titolo vince al primo round per K o tecnico il match non ha storia il match praticamente il match in pratica non è neanche iniziato in pratica il match non è neanche iniziato e onestamente penso di dover fare un terzo perché ho fatto quattro round in due match penso un terzo un terzo match forse è meglio è meglio farlo dai facciamo un terzo match anche te penso che prima di scegliere l'avversario devo di nuovo rimettermi in forma col peso perché ora sono diciamo sostanzialmente dice ai limiti se hai rimettersi un po' in forma col peso certo io spero per tutti gli appassionati che pesa qua e weight class che non sono riusciti a correggerlo in pieno questo bug delle titola che non spunta mi conto senza alcuna lesione ok ora senza contratto coach fermi tutti rinnoviamo gianna gianna alla fine anzi promuovi coach vediamo un po' se si può se si può uc quanti punti c'ho 500 e mi sa che così li uso tutti così li uso tutti fine pieno 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 e allora e allora e allora direi intanto poi dalle lamenti e poi vai di peso vai assolutamente di peso lo so per ora non tengo in conto di nessun tipo di match perché devo ce la fare ok va bene ok va bene ok scusate devo un attimo intanto diciamo ormai se si chiude la carriera ce ne faremo diciamo che ce ne faremo una ragione ok ho capito va bene negozi e rincontro che abbiamo antoine carter già affrontato willy edwards con il quale dovranno difendere tutti i titoli tranne quello ibf caro willy accettato la sfida ovviamente nella negoziazione ovviamente clausano incontro la leviamo caro amico mio all'attirizzo arena va bene dai pronti siamo pronti siamo pronti signori siamo pronti allora box barn e allora cominciamo ok poi fare allenamento io sempre vai su spari difensivo che sono quelli che spari difensivo spari difensivo allenamento temiato perché ha subito infortunio grave lacerazione del tendi del ginocchio sinistro come dato che sui limiti torteci torteci per cento pare quelle cazzo dici pure infortunio ah lacerazione genti ah ok era il mio diciamo devono aggiustarla pensavo fosse infortunato lui invece si è infortunato il mio si è infortunato il mio si è infortunato adesso talent Javier Kahn e Willy Becker Javier Kahn non penso di affrontare nessuno di due e non lo so adesso e non lo so e non lo so e non lo so allora però onestamente Javier Kahn ok anche te uno si chiama Javier Kahn ed è stato un'itenza vabbè ok però scusate c'è bello sguardo di Panama questo qua puggire panamense con lo sguardo intenso panamense con lo sguardo intenso c'è onestamente come posso non affrontarlo Willy Becker Willy Becker scusa eh c'è posso mai non affrontare Willy Becker e no e no è un posto e avanti ora Klaus non lo incontro o no lui già lo sa l'ha capito perfetto niente non lo incontro benissimo andiamo appena torna come si chiama quell'altro poi diamo un match attitolato recupero infortuni grave ok e adesso here we go allora direi media poi allenamento spari difensivo spari difensivo spari difensivo poi media recupero poi e media spari difensivo spari difensivo recupero e ci siamo dovremmo essere abbastanza in condizione per affrontare bello sguardo affrontare affrontare lo sguardo più intenso di Panama e penso sia Panama quella bandiera no? sì credo sia Panama cioè onestamente è bellissimo quello sguardo intenso così cioè non possono scegliere un avversario no? scusate scusate no? bello sguardo di Panama bello sguardo di Panama per forza di cose devi dare una possibilità titolata cioè a prescindere a prescindere da tutto farà una brutta fine probabilmente però una possibilità è giusta Diana bello sguardo possibilità con quello con quello sguardo intenso che si ritrova mi ha convinto mi ha convinto mi ha convinto con quello sguardo intenso là e pronti tipo discoteca pronti siamo pronti tratto faccio anche i complimenti per i pantaloncì sono bellissimi questo perché vabbè ok bene ma e calma che è successo la cosa va bene ok calma mi fa aggressivo per lo sguardo mi fa aggressivo ma ok 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 la combinazione anche se andavamo solo ora il corpo attenzione calma calma ancora il volto ok tra l'altro amico mio io un pochino più di muscoli me li farei te lo così te lo dico te lo dico in amicizia e sportività un altro po' di muscoli al posto tu me li farei calma 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 però mi sa che questo questo match durerà questo match mi sa che durerà per lo meno ecco potrebbe essere il match più lungo della puntata potrebbe essere potrebbe esserlo ottimo primo round per i pugni erano splenio colpi di cance il solito il solito il solito signori adesso calma ancora segno attenzione difficoltà becker attenzione bello sguardo in crisi bello sguardo in crisi attenzione bello sguardo in crisi e di nuovo di nuovo in crisi ci aveva resistito ma attenzione e va giù va giù bello sguardo va giù bello sguardo di panama attenzione primo atterramento per bello sguardo di panama comincia il conteggio siamo a 6 a 10 si alza al 6 addirittura al 6 attenzione potrebbe potrebbe essere un notevole segno di 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 resilienza ok calma ma ok attenzione fermi fermi sto sbarciando troppo ok sembra usare un approccio un po' diverso attenzione però fermi fuori scanna un po' troppo calma tranquilli ma ok ancora segno ancora segno ancora il corpo ok finisce il secondo round vabbè finisce questo è un 18 8 per via di atterramento dal punto di vista dei punti mi sa che prenderò presto il largo però è un po' fantastico ok stai combattendo meno rallentare va bene ok con calma calma ti vuoi fare calma ferma 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 per il corpo il corpo volto fissa proprio lui è proprio partito all'attacco eh cerca di recuperare il punteggio attenzione si difende calma ok ok ancora il volto ancora il corpo lo so votati ok ok ma no fermi ok benissimo ora segno calma non sto forse usando troppa stamina dovrei può essere un po' più calma anche perché questo qua ti difende questo difende sembra quasi usare quella che è sempre stata tattica solida di far stancare l'avversario ok allora faccio danni decenti all'inizio dell'incontro continua così sta combattendo bene quindi stiamo facendo effetti sicuramente va compiccino contrattato ok 64 200 di stamina è stato un po' tanto vabbè 19 18 19 sono nettamente in vantaggio sui punti e questo mi sa c'è la possibilità che questo questo match arrivi ai punti calma calmi ok calma va bene va bene ci siamo ora 1 2 ancora il corpo ok no 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 fermo ok 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 avvolto per esempio l'ho preso ok 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 ancora al volto tanto comunque questo mi sa signore questo non è è avversario che resiste questo avversario che riesce a stare in piedi anche perché difende bene attenzione ora è in crisi attenzione in crisi e si è ripreso ma di nuovo in crisi stavolta va giù va giù becker secondo atterramento va giù becker bello va bene ok va bene secondo atterramento di becker al quarto round ma aspetto che si rialzi siamo al 5 8 e si rialza e finisce nel frattempo finisce il quarto round ripeto è il quarto o il quinto non mi ricordo era il quarto o il quinto era il quarto questo è il quinto adesso è un altro atterramento significa un altro 18 quindi siamo avanti di 6 punti siamo avanti di 6 punti adesso ok possiamo farlo molto tranquillamente la cosa allora e non faccio cavolate anche questo match è probabilmente vinto attenzione però in crisi io becker però porca mi sei allora vinti si ripresa ho gestito benissimo sono avanti di crisi ma ce l'ha di nuovo e va giù e va giù stavolta va giù stavolta va giù stavolta e credo per secondo atterramento in questo round anzi no no credo sia il terzo in generale questo è il primo in questo round siamo a 5 8 9 e si rialza attenzione si rialza per lo sguardo attenzione si rialza per lo sguardo quindi il becker per gli amici bello sguardo di panama torna in piedi arma e però adesso andiamo in crisi e giù questo è il secondo atterramento secondo atterramento chissà colpito secondo atterramento questo round e qua potrebbe non rialzarsi qua potrebbe non rialzarsi siamo a 5 8 9 fine finisce il match alla fine resiste 5 round che è sempre più di tutti gli altri in questa puntata resiste quei 5 round e portiamo ed è un'altra vittoria 19 18 19 18 continuiamo il nostro il nostro pigino il nostro personaggio continua a essere nettamente superiore rispetto agli altri proprio senza storia letteralmente senza storia il fatto è che adesso c'è adesso sono indecito io ecco sono sincero ho iniziato questa puntata probabilmente ve l'ho anche detto quella convinzione sarebbe stata l'ultima forse forse non sarà così forse non sarà così ripeto perché sto cominciando a vedere avversari nuovi almeno almeno ci sono che ci sono avversari nuovi almeno c'è come posso dire un miglior diverso stimolo a proseguire almeno questo con avversari nuovi non male ora confermiamo e signori io io direi che per oggi questa puntata è tutto abbiamo fatto anche 45 minuti non sta in un bel po' detto questo signore io vi saluto vi ringrazio aver seguito vi do appuntamento alla prossima scusate